siamo arrivati dove siamo arrivati amore il negozio di perle il bel pesce là ce lo fanno al cuore no? si manca la griglia con il limone che qui fanno le perle questa roba a pezzettini guardate che roba delle perle vere costosissime guardate qua qui è carissima, bisogna andare più la misa questo deve andare più al fondo e riuscirà a rubare qualcosa Dio ci ha visto che c'è troppi zello sì c'è troppo quanto costa? 350 milioni costa più di mille euro però questa è bella bella ma sei milioni con tutte le perle sopra? sì sì